Bene, allora abbiamo visto che esistono dei strumenti open source che consentono di realizzare sul vostro computer dei programmi tipo chat GPT e che sono liberamente disponibili, sono open source quindi per esempio questo è Alpaca Electron Alpaca Electron lo potete trovare su Github nel senso che basta che cerchiate Alpaca Electron Github e quindi avete praticamente il link al progetto Github e da qui potete andare sulle release e poi dalle release vedete che vi dice due cose sostanzialmente come scaricare il .exe, questo, se avete Windows se invece avete Apple o Mac scaricate questo DMG 64 bit forse e se avete Linux questa versione ecco, quando poi scaricate questo programma dovete poi però scaricare ancora un file e per scaricare questo file guardate bene cosa dice qua dice attenzione dovete scaricare praticamente i modelli e i modelli di Alpaca sono qua sotto e qui abbiamo una serie di modelli che vanno dagli Alpaca 13 miliardi di parametri ma a noi ci interessano e quindi anche voi probabilmente i modelli praticamente a 7b perché ci sono i 13b, i 7b e da qualche parte anche se lo cercare ecco qua vedete c'è un 30b 30 miliardi è conveniente prendere il 7b perché il 7b è un file grosso sui 5-6 gigabyte mentre invece il 30 gigabyte è grosso una ventina di gigabyte ma sostanzialmente cambia parecchio la velocità con cui vi estrae e poi vi fa le cose ad esempio io adesso credo di avere un Alpaca native quindi ce l'ho installato l'ho scaricato e l'ho installato e se voi fate Alpaca Electron questo quando lo scaricate la prima cosa che vi chiede quando viene installato è di prendere il modello e nel modello scelgo un modello che ho scaricato quindi in questo caso gmlmodel model q41 Alpaca eccetera confermate il modello e poi potete chiedergli qualunque cosa in questo caso per esempio posso chiedergli le solite cose ma chiediamoli una cosa banale per esempio gli chiediamo dovete usare in inglese purtroppo perché i modelli piccoli come questo lavorano solo in inglese quindi Giulio Cesare quindi chi era Giulio Cesare però gli dovete scrivere in inglese e lui ci impiega questa è una registrazione in tempo reale vedete che ci pensa e quando poi deciderà tra qualche ci può pensare anche ecco Julius J. Cesare also known as Giulio Cesare of Rome o sempre referred to as Cesare e comunque vedete che vi dà delle risposte che sono quelle che nel test che ho fatto permettono di di verificare di avere comunque un risultato non dico buono ma abbastanza dignitoso ok lasciamo solo finire perché in funzione della domanda del prompt avete delle delle risposte che possono essere più o meno più o meno complesse e questo modello si comporta relativamente bene e come vedete è lentuccio se mettete un modello 13b diventa un pochino più lento circa la metà più lento credo se mettete il 30b invece diventa sostanzialmente impossibile e quindi questo è tutto ok quindi ricordatevi di scaricare il modello e il modello lo scaricate vedete che ho scaricato anche il 30b come ho detto prima il 30b sono 23 giga il 13b sono quasi 10 giga e invece quello normale quello che è suggerito l'alpaca native è soltanto circa 5 giga ok questo è tutto è soltanto l'alpaca